Allora, ok. Bene, allora. Direi che possiamo iniziare. Allora, benvenuti a questa video chat relativa appunto al secondo appello, quindi qui parliamo del tema d'esame del secondo appello che è quello che avete visto, il generatore di meme, che sono, meme è quello che viene definito qui nel test. Il titolo, l'immagine, le frasi sovrapposte, uno o più, la visibilità e il nome del creatore. Questo è ciò che caratterizza il meme. Ok, direi che possiamo andare direttamente alle domande. Queste sono le domande finora pervenute sul canale esame 2, esame 2 meme. Quindi avrei una domanda relativa alla seguente parte del testo. Ciascuna immagine predefinisce anche il numero di campi di testo supportati, 1, 2, 3, la posizione tra i campi di testo nell'immagine stessa. L'utente sceglie ad esempio l'immagine X con tre possibili testi, deve scegliere tra un set di posizioni predefinite di default, top, center, bottom oppure può decidere in autonomia la posizione di testi, trascinandole sulle immagini o dando un valore in termini numerici, eccetera. Allora, io a questa avevo già risposto, l'unica a cui ho già risposto. Le posizioni e il numero di campi sono già fissate, per semplicità non modificabili da nessuno nell'interfaccia dell'applicazione. Quello che dice chi ha scritto questa domanda sarebbe bellissimo. Scegliamo, mettiamo la posizione in autonomia, trasciniamo, clicchiamo di più, di meno, più su, sinistra, destra. Tutto bellissimo ma tutto estremamente complicato. Noi non vogliamo focalizzarci su questo aspetto se non posizionare tre scritte, al più tre, massimo tre scritte su un'immagine. Quindi niente di complicato e predefinito, quindi da qualche parte, diciamo nel database tipicamente, ci sarà scritto che per quell'immagine possiamo mettere un testo, oppure due testi, oppure tre testi, e il testo 1 lo mettiamo in questa posizione, quindi, non so, con una coordinata x, y, a partire, che so, dall'angolo in alto a sinistra dell'immagine. Comunque, un'indicazione della posizione in cui inizierai a scrivere, per la prima scritta, per la seconda scritta e per la terza scritta. o campi di testo, anzi, quindi, vabbè, comunque, sostanzialmente delle scritte. Bisogna che muti i canali dell'altro corso, se no, non finiamo più. Vediamo se c'è, disattiviamo, anzi, cambiare le notifiche. Ok, silenzio, anche l'altro. Facciamo in contemporanea, ci sono vantaggi e svantaggi. Ok, poi c'è un'ulteriore domanda sul nostro canale, ma adesso arriviamo. Prima rispondiamo a quelle che vengono prima, cronologicamente. Quindi le posizioni e il numero di campi sono fissate, e basta. Quindi sono stabilite, e non possono essere modificate per semplicità. Per esempio, possono essere memorizzate una volta per tutte nel DB. Questo è il posto classico dove teniamo l'informazione. Ok, salvo, ho raccolto un po' di dubbi in questi giorni, scuso per la lunghezza. Esistono anche degli utenti non creatori iscritti al Sisto? No. Se esistono, accedono alla stessa interfaccia di chi visita il sito, dato che non possono creare meme. Sì, visto che non possono creare meme, cioè possono, sono visitatori del sito. Quindi l'unica cosa che possono fare è visitare il sito. Possono solo visitare il sito. Ma è appunto se esistono, ma non esistono. Quindi il problema non si pone. Come dobbiamo gestire l'hosting delle immagini? Io ho pensato di fare così. Si può dire, se è accettabile, lasciare il file delle immagini a renderizzare dentro la cartella public del client. Usare il database per salvare solo l'informazione o l'identificativo delle immagini, nome o percorso. Io direi che questa è proprio la soluzione perfetta. Nel senso che, è chiaro che si può fare come in tutti i temi di programmazione, come volete. Ci sono diverse alternative. Questa è, secondo me, perfetta, nel senso che è probabilmente la più semplice che possiamo pensare. Quindi, le immagini le scegliete quando state iniziando a lavorare sulla vostra applicazione. Quindi le mettete nella cartella, appunto, public, dove sono accessibili tramite un URL. E poi, salvate questo URL nel database, insieme a tutto il resto delle informazioni, come si diceva prima, che sono la posizione dei testi, quindi dei campi di testo e così via. Quando si deve servire la pagina che contiene l'immagine, ovviamente bisognerà recuperare dal database l'informazione di dove sta l'immagine. Ma sarà molto semplice, di fatto, il percorso che dovete aggiungere o dovete mettere nel tag IMG per caricare l'immagine. Non c'è la necessità di aggiungere immagini dopo, non c'è la necessità di poterle modificare e così via. Quindi è chiaro che siamo un po' limitati rispetto a un'applicazione vera. Un'applicazione vera, probabilmente potreste caricare, cancellare, fare. Ovviamente è un tema d'esame, vogliamo mantenerlo semplice. Quindi questa è probabilmente una delle soluzioni più semplici che posso pensare per gestire le immagini. Eviterei di, anche se è possibile, farle, diciamo, andarle a prendere in giro per la rete e mettere l'url, semplicemente perché se sono in giro per la rete non avete nessuna garanzia che domani ci siano ancora. Quindi magari il giorno che arrivate all'esame, quell'urlo non funziona più, quel giorno non funziona, oppure quando fate i vostri test non funziona la connessione, rimanete bloccati e così via. C'è 3.000 motivi. Se ce le scarichiamo, prendete delle immagini qualsiasi, se non ci interessa cosa si vede, immagini anche semplici. Le salvate, le mettete nella vostra cartella. Se non mi ricordo più quante ne chiedevamo, se 3 o 6, insomma qualcosa di questo tipo. Finito. Nel testo d'esame c'è scritto I meme con visibilità pubblico saranno visibili a tutti i visitatori dell'applicazione web, mentre quelli protetti saranno visibili unicamente agli altri creatori. Ma non sono sicuro di cosa si intende per altri. Riassumendo, se non ho capito male, i meme pubblici sono visibili da chiunque, registrato o no, creatore o no. Esatto. Mentre i meme protetti sono visibili da tutti i creatori, cioè ogni utente creatore, compreso chi l'ha creato per la prima volta. Sì, direi che sì, va bene. Sì, va bene. Ah, perché scrive il maiusco? Sì, va bene. Quindi, sostanzialmente, chi ha fatto un'autenticazione può vedere tutti, inclusi i protetti, e chi non l'ha fatta vedrà solo i pubblici. Gli utenti creatori devono autenticarsi con username e password. Una volta autenticato, un creatore vede l'elenco dei meme pubblici e protetti, e selezionandolo uno potrà vedere tutte le proprietà. Inoltre, questa pagina potrà creare, copiare, eliminare il meme. Come è molto chiaro, se l'utente deve creare, copiare, eliminare un meme dalla pagina delle info del meme stesso, o dalla pagina della lista dei meme. un creatore. Andiamo a vedere sul testo perché inoltre da questa pagina, quindi, inoltre, da questa pagina bisogna creare, copiare, eliminare, e io direi che se dovete eliminare, creare, creare, non ha molto senso crearlo dalla pagina del dettaglio. Quindi io direi dalla pagina dell'elenco. Quindi dalla pagina, dalla pagina della lista. E' la cosa che è più, diciamo, intuitiva. E' vero che, sì, se lo devo copiare, forse anche dal dettaglio si può fare, però anche l'eliminare, diciamo, essendoci tutto tra le opzioni, dalla pagina della lista, in effetti, magari cerchiamo di rendere un po' più esplicito nel testo, la pagina della lista è il posto dove viene un po' più semplice, un po' come la lista dei vostri task che avete portato avanti nel laboratorio, c'era il bottone più, è vero che non avevate la pagina di dettaglio, però lì potevate fare tutto, volevate cancellarne uno, volevate fare qualcosa, si poteva fare lì. E' un errore che abbassa il voto, utilizzare spesso stili CSS style, quindi di tipo in line, per posizionare gli elementi, per la posizione precisa di fumetti dei meme, difficilmente vedo altre soluzioni, può creare padding, inoltre alcune soluzioni che offre booster, per l'acto come flex, inoltre si potrebbe perdere, parte della databilità della pagina e diverse dimensioni dello schermo, perché se si vuole essere precisi con il posizionamento del testo, il testo stesso, immagino che posso anche scalare di dimensione, è vero, per delle parti di voto, no, allora, diciamo non complichiamoci troppo la vita, diciamo non ridimensioniamo, non preoccupiamoci, non preoccupiamoci di ridimensionare lo schermo, e quindi si sceglie un posizionamento, diciamo cerchiamo prima di tutto di non lavorare con immagini mostruosamente grandi, che non ha alcun senso, quindi delle immagini relativamente piccole, che stanno sullo schermo, quindi senza bisogno di ridimensionamento, che sono visualizzate alla loro dimensione nativa, e posizioniamo questi testi in queste immagini, e ci può bastare questo, quindi il preoccuparsi di ridimensionare lo schermo è veramente eccessivo, non lo facciamo, quindi non vogliamo preoccuparci di questo aspetto, sennò appunto bisogna poi chiedersi cosa vuol dire il posizionamento quando ridimensiono, se è relativo, se è assoluto, e tutte queste cose di cui non vogliamo preoccuparci. Riguardo allo stile, lo stile è chiaramente per posizionare degli elementi, bisogna un attimo capire, sicuramente ci serve, ci servirà associare uno stile, e lì bisogna un po' capire come si vuole implementare, però non vedo un problema, diciamo di calo di voto, se così lo vogliamo chiamare, utilizzando una maniera, piuttosto che un'altra, di posizionare il testo, perché è chiaro che qui c'è da posizionare qualcosa, e va fatto per forza con del CSS, quindi forse, sì, se, diciamo, anche qui, dunque il posizionamento, posizionamento andrà fatto, fatto con il CSS, l'alternativa proposta è accettabile, proposta è accettabile, nel senso che effettivamente, se no, dobbiamo creare uno stile, uno stile che però va poi servito, insieme alla pagina, dipende un po' un meccanismo, diciamo, poco, cioè, complicato, ecco, quindi, se uno vuole usare, appunto, gli style in line, per cui tre testi, va bene, quali potrebbero essere alternative, uno potrebbe avere dei posizionamenti predefiniti, in effetti noi non è che abbiamo detto che deve essere una precisione al pixel, però, quindi potrebbero esserci dei posizionamenti, non so, appunto, alto, centro, basso, sinistra, centro, destra, eccetera, mischiate, c'è quindi un set di posizioni, anche se nel testo in realtà abbiamo detto, posizioni di tali campi nel testo è un'immagine stessa, quindi, diciamo che chiaramente non vorremmo avere, diciamo, dei, cioè, la possibilità massima o tre, tre posizioni, uguali per tutte le immagini, no, perché se questa informazione deve essere mantenuta ed è, insieme all'immagine, deve essere, diciamo, una proprietà che viene insieme all'immagine, è chiaro che devo poterla variare per ogni singola immagine, no, però, a parte questo, non ci sono ulteriori indicazioni, quindi, appunto, o si usano dei meccanismi di posizionamento un po' più, come dire, grossolani, però, specifici per la singola immagine, oppure, appunto, non vedo tanta alternativa a usare uno style e posizionarla relativamente all'immagine che viene renderizzata sullo schermo, ok, dunque, apro solo la chat, devo assicurarmi che nessuno ci scriva sopra, per verificare se qualcuno ci scrive sopra, ok, e, allora, poi, un paio di domande, innanzitutto, non mi chiedo cosa mostrare nella home page, chiunque visiti il sito, visualizza l'elenco di meme pubblici nella home page, selezionandolo uno potrà vedere proprietà, titolo, immagine, nome del creatore, che mi confondo, non mi chiaro cosa dovrebbe vedere l'utente che effettivamente, per vedere, per effettivamente visualizzare il meme, non so se mi sono spiegato, eh, ok, allora, eh, in, eh, home page, si può, visualizzare, semplicemente, la, eh, l'elenco, quindi, cosa, titolo, eh, che sono in titolo, oppure, eh, direttamente il, il meme, il meme, lì, vedete un attimo voi, cosa, cosa, cosa ritenete sia più semplice fare, quindi, se uno, che so, se hai fatto il componente meme, eh, che fa tutto questo meccanismo di visualizzazione, va a chiedere, eh, le informazioni, decide, cioè, fa vedere al testo, fa vedere il testo, la posizione, eccetera, ce l'avete, lo replicate, n, eh, n meme, e, boh, si può riutilizzare, se invece, volete mettere, semplicemente, una lì, un elenco, no, che so, caratterizzato, per esempio, dal solo titolo, va bene lo stesso, quindi, a scelta, a scelta, dunque, attributi del testo, quindi, abbiamo attributi del testo, eh, adesso, cerchiamo, attributi, ok, eh, ah, abbiamo scritto solo, quindi, vediamo dove c'era scritto, possiamo, dunque, creare, dov'è che si cambia, creare, senza scrivere il testo, ah, poter scegliere, almeno due tipi di fonte, ecco, eh, quindi, gli attributi del testo, sono questi, ecco, lì, non li trovo più, quindi, dov'è, ah, e gli attributi del testo sono, eh, il font e il colore, font e colore, no? quindi, esattamente come diceva, nella domanda, ok, il font, eh, vi ricordo, eh, il tipo di font, come appunto, prendiamo questo, eh, aria, calibri, ne so, quello che volete, no? un paio, ok, quindi, eh, di dimensioni prefissate, semplicemente perché così ci evitiamo, di, di avere, un terzo attributo, eh, eh, quindi, fonte e colore, no? quello che volete, non fa niente, prendetene due, più standard, serif, sanserif, insomma, che poi sul browser si mapperanno su qualcosa, ma noi, interessa che ci sia possibilità di scegliere qualcosa, no? ma non quale, non, non ci interessa più, tanto, ok, ehm, quindi, una domanda, per quanto riguarda la pagina in cui è visualizzata l'enco dei miei, deve essere una collezione di immagini, di testi sovrapposti, eh, oppure un elenco di titoli, e quindi a sua scelta, eh, l'abbiamo già risposto prima, a sua scelta, vedete voi, nel senso, chiaro che uno è più carino, ma non è richiesto, eh, come è sempre tutto ciò che non è richiesto, poi, finisce per, non è valutabile, non è che vi dà una cosa in più, cioè, per fare un nuovo componente, titolo apposta, solo per la pagina e alla lista, avete già il componente del, del meme, forse fate prima a istanziare il componente del meme, nella lista, e finisce lì, quindi, eh, però, non ci sono, a scelta, eh, ci sono limitazioni su come e dove conservare le immagini in sfondo, eh, no, ma sarebbe, eh, ma, attenzione, però, eh, che, eh, le risorse in rete possono sparire da un momento all'altro, quindi, eh, di per sé, se volete usare degli urla, delle immagini pubbliche, ovviamente, no, perché, devono essere accessibili a tutti quelli che provano l'applicazione, eh, potete farlo, eh, diciamo, c'è un po' questo rischio, che, oggi c'è, domani non c'è, a meno che il sito da cui prendete le immagini sia vostro e sapete chi ci mette le mani, ecco, però, di per sé, potete fare quello che desiderate, se volete mettere degli urla, mettete degli urla. Ok, nel testo dell'esame c'è scritto, eh, se il meme è proprio dello stesso creatore, eseguire una copia per mettere il cambiamento di titolo, frase, visibilità, attributi del testo, cioè tutto tranne l'immagine, se il meme non è proprio, eseguire una copia per mettere il cambiamento di titolo a testo, se il meme è a copiare protetto, non deve essere possibile cambiare la visibilità se pubblico, ok, quindi, allora, se io copiassi un meme protetto, non mio, e poi utilizzassi questo meme appena creato, come base, per un altro meme potrei modificare, di fatto modificare negli attributi, eh, sì, sì, nel senso che diventa suo, però sta copiando dal suo poi, quindi, eh, sì, sì, è un po' come, è un po' come, appunto, questo documento online, che io vi metto a disposizione, ve lo metto in sola lettura, poi arriva qualcuno, mi fa file, make e copy, e si fa la sua copia, e cambia, e cambia quello che vuole, e poi una volta che ha la sua copia, di quella ne fa quello che vuole, eh, quindi sì, 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 però, è un nuovo meme, quindi, è un nuovo oggetto, non sta modificando, cioè, ci sono due passaggi, c'è quello dell'altro, che diventa proprio, con una serie di restrizioni, e poi, e poi fa, fa un'ulteriore, diciamo, copia, che fa quello che vuole, eh, tra i requisiti, c'è scritto, il database del progetto, per caricato, che non è un altro utente, carattere, tra i meme ciascuni, qui, uno, tramite i copi, di un meme, di un altro utente, per come ho creato il db, non c'è nessuna differenza, tra salvare un meme nuovo, o salvarne uno, partendo da una copia, eh, è necessario, inserire una colonna origine, all'interno del db, anche se praticamente non ho, eh, ah, questa, questa è interessante, eh, perché, dunque, in realtà, inizialmente, avevamo pensato, un'altra cosa, nel testo c'era, c'era un meccanismo, appunto, che teneva traccia di questo, dove provenivano i meme, quindi dell'origine, però, poi l'abbiamo tolto, perché volevamo fare il testo, un po' più semplice, eh, però, è giustamente, il vostro collega dice, qui non c'è da visualizzare, da nessuna parte, quindi, nelle proprietà, non c'è, da dove arriva, quindi, si vede, il nome del creatore, quindi, non, sì, quindi, non è necessario, non è necessario, ah, perché, ah, perché, potrebbe, perché effettivamente, non, si noterebbe, la differenza, diciamo che, bisogna solo fare attenzione, nel senso che, se, se la copia, di quello di un altro utente, in fondo c'è ancora scritto, ecco qui, no, tramite copie di un meme, di un altro utente, ma, eh, sì, credo che questo, eh, sì, diciamo che, non si noterebbe la differenza, se, se la vuol fare, non è che possiamo dire, che non l'ha fatto, eh, diciamo che, come consiglio, potrei dire, provi a farlo, dall'interfaccia all'applicazione, così è sicuro, che tutto funziona, però, di per sé, è vero, che non, non possiamo saperlo, effettivamente, se è stato fatto così o no, ma non per questo, abbiamo bisogno di una, origine, perché non c'è da tenere traccia, dell'origine, l'avevamo appunto tirata via, eh, per scrivere sulle immagini, basta utilizzare, stili css, quello di, no, basta, no, basta, no, stili css, anzi, direi, cercate di evitare, di fare cose complicate, appunto, questo è il giusto, posizionamento, semplice, fine, non andiamo a complicarci la vita, su queste cose, perché non è, non è, non è necessario, dunque, corsivo normale, non è richiesto, non è richiesto, si richiedeva il font, che non è il corsivo normale, eccetera, ma è il nome del font, no, che non vuol dire che devo scrivere il nome, vuol dire semplicemente che devo poter scegliere tra due, predefiniti, anche lì, va benissimo, non è necessario implementare la modifica di un meme, credo di no, perché se non è richiesto, non lo è, creare, copiare, eliminare, non è richiesto, non è richiesto, di nuovo, e per limitare la complessità del lavoro, nel senso che, è chiaro che, sono tutte caratteristiche carine, però, c'è già abbastanza da fare, crediamo, e quindi, non, cioè, almeno si, meno c'è da fare, prima si finisce, si consegna, eccetera, ho un dubbio sulla creazione di un meme, un creatore, vede l'elenco dei meme pubblici e protetti, selezionandone uno, ne potrà vedere tutte le proprietà, in realtà, questa pagina potrà creare un meme, da questa pagina, si intende che, deve essere necessariamente, se ce ne siede un bottone, create meme, più, da premare, una volta per uno, apparirà un model, con il form, di creazione, se, oppure, solo una volta, senza andare, ah, su, stile, faccio, 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 con da questa pagina questa pagina si intende e che nella visualizzazione scusate il touchpad anche se non lo tocco prende il click visualizzazione della pagina devo poter effettuare un'azione un'azione che mi porti a in questo caso dunque cos'era creare a iniziare la creazione diciamo così creazione del meme quindi dove si è visualizzato il bottone e avete fatto un bottone avete fatto un link clicco e si apre e c'è un componente che diventa visibile il bottone sulla navbar mi porta in una nuova pagina insomma sono tutti i dettagli che potete decidere voi come come realizzarli l'unica cosa che chiediamo e che raccomandiamo è fate qualcosa che abbia senso nel senso che sia utilizzabile no è chiaro che se diciamo io clicco non succede niente nella pagina non cambia e avete fatto comparire una cosa in un posto nascosto magari fuori schermo eccetera non si capisce cosa fare ovviamente quella soluzione lì non va tanto bene perché perché non ci consente di capire cosa cioè come andare avanti no però diciamo qualcosa di ragionevole noi vabbè se uno vuole apre il model se uno vuole va su una nuova pagina se uno vuole appunto apre un pezzo della pagina e con le informazioni da inserire insomma l'importante è poter fare l'azione richiesta e da quella pagina vuol dire che in quella schermata devo poter fare qualche azione tipicamente un click col mouse da qualche parte per poter fare questa cosa ok quindi adesso prendo le domande da slack ecco 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 c'è subito qualcosa ok ma perché non ho proseguito non si sa va bene dunque ok allora copie poi metterò come sempre a posto nel documento offline ma l'immagine essendo fisse possiamo salvarle in una cartella sul a livello client e nelle relative specifiche fisse magari in un array fisso allora no nel senso dunque no le immagini non possono essere salvate sul client nel senso che cioè è un po' come se lei ci desse il sito di amazon e la propria cosa le scarica tutte le immagini di tutti i prodotti che ha cioè non è una cosa che ha senso cioè non posso precaricare tutto quanto solo perché consente di dire non so dove metterle le devo mettere da qualche parte il server me le serve se richiesto quando richiesto oppure come dicevo c'è un url al di fuori del mio server con tutti i rischi che ci comporta e che contiene le immagini cioè salvare sul client è un po' come quando programmate e dite vabbè allora fisso tutti gli input nel programma all'inizio se c'è bisogno ricompilo va bene quando siamo all'inizio stiamo cominciando a provare va bene ok facciamo una prova veloce ma poi non è un programma che si può come dire consegnare che si può utilizzare che qualcosa di ben fatto invece come come si diceva prima si possono salvare sul server c'è la cartella apposta public dove posso mettere quello che voglio metto queste immagini e lì è probabilmente la cosa più semplice le relative specifiche anche le specifiche non dunque penso che per specifiche intenda posizioni non non possono stare nel senso capisco che sì è vero che non diamo la possibilità nell'applicazione di modificarlo ma questo non vuol dire che cioè dobbiamo ridurci a mettere delle costanti nel codice ecco quindi questo mi sembra veramente veramente eccessivo nel senso sono è vero è vero che c'è scritto predefinite però se dovremmo scrivere pre pre caricate nel database insomma qualcosa adesso ne parlo con i colleghi sembra veramente eccessivo ecco come cioè intanto nel momento in cui uno decide se cancella un'immagine se crea un'immagine un meme se se crea il meme cioè insomma di fatto di fatto queste informazioni su sulle immagini possono tranquillamente essere una una singola ipi che da tutto quello che c'è a disposizione e poi se c'è bisogno le informazioni si scaricano dal server quindi l'immagine di fatto però tenerle nel server ci consente di rendere l'applicazione un po' più flessibile no? dico nel server sul database ma semplicemente perché quello è il posto dove teniamo questo genere di informazioni ok possiamo scegliere le immagini tutte della stessa dimensione? sì le immagini possono essere tutte della stessa dimensione anzi direi direi che è consigliabile ma perché semplicemente per semplicità perché se ce l'avete tutte della stessa dimensione diciamo vi assicurate che funzioni tutto e poi piuttosto prendete delle immagini trovate delle immagini in giro le ritagliate di quella dimensione fine quindi niente di cioè poi si può fare anche con immagini non della stessa dimensione però di nuovo è una cosa più complicata del necessario gli attributi del testo sono scelti per tutto il meme o per ogni campo di testo io direi io direi per tutto però volevo assicurarmi questo è dell'intero meme quindi per tutto il meme io direi che per tutto il meme quindi quindi c'è il nuovo meme decido che il testo è rosso e quindi saranno tutti e tre i campi se ci sono tre campi rosso se ce ne sono due saranno tutti e due rosso e se ce n'è uno sarà uno rosso ok dunque questo collega prima diceva mi sono espresso male scusi intendo sei immagini di base relative info fisse ecco io appunto direi che vale quello che dicevo prima nel senso cioè non le possiamo salvare sul client se no diventa appunto una serie di coste nel client dovete aggiungere un'immagine sì andate a modificare l'applicazione aggiungiamo nel database mettiamo l'immagine sul server nella cartella public fine senza toccare cioè tendenzialmente il codice dell'applicazione una volta che è finita non dovrebbe essere mai da toccare al massimo si tocca il contenuto del database quindi quando dice cartella pubblica del server intende server react sì 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 ah perché mi è perché mi è incollato scusate questo computer ogni tanto da un po' i numeri allora faccio copia dall'altro schermo su react sì no server react si 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 del server di development quindi la la cartella la cartella public di cui si vediamo se se ho il viso studio code con un progetto magari già caricato beh sì questa qui la public adesso lasciate per questo lasciate qualcuno però in questa public da cui peraltro si parte no c'è l'index html si può mettere qui oppure volendo si può mettere sul server oppure si può mettere anche su anche sul server node ma bisogna creare una root per il contenuto per il contenuto statico quindi di per sé diciamo si può anche fare diversamente di nuovo la soluzione più semplice va benissimo ok ok poi c'è una domanda sulla chat di zoom allora c'è buongiorno buonasera che poi chi rilegge chi rilegge di notte va bene a seguito della domanda analizzata prima in merito alla distinzione di un meme copiato mi è sorto un dubbio se io sono A e copio un meme creato da B la copia su cui lavoro avrà come creatore A o B suppongo A ma non è esplicitato nel testo quindi quindi lei dice allora copiare scrivere una copia per mettere sì se il meme non è proprio dove deve avere scritto lo testo e quindi sì rimane rimane A quando faccio la copia sono io il creatore sì bisogna capire la definizione di creatore dunque se io lo creo ok questo dovrei chiederlo al mio collega che ha pensato questo tema d'esame non se per caso c'è non se per caso c'è qualche cosa siamo tutti in contemporanea per combinazione a fare questa cosa quindi sto rispondendo alle altre domande quindi dice non dovrebbe essere B una volta che faccio se non deve sì ha ragione allora quindi vediamo di quindi quindi diceva una volta che faccio via ecco che sono il creatore scusate posso proprio posso fare copia in colla una sola domanda una sola riga per volta dalla chat scusate vedete il discorso che facciamo ultima creatore B io che copio sono A ok quindi se io sono A copio un meme creato da B la copio su cui lavoro è un creatore A o B creatore B io che copio sono A e questo questo in effetti se il meme è proprio dello stesso creatore eseguime una copia cioè tutto tranne l'immagine va bene se il meme non è proprio non è proprio cambiamento di titolo e testo copiare protetto va bene non si può cambiare la visibilità se è pubblico è possibile salvare la copia come pubblica o protetto però dunque allora se io quando copio eh se non diventa B ok va bene cancelliamo questo come scrivete sulla chat quindi non dovrebbe essere B una volta che faccio quindi quindi se io copio ehm eseguire una copia quindi se io copio e poi e poi non è mio vorrebbe dire che non posso eliminarlo no? perché se non è mio ehm però quindi vuol dire che il creatore rimane il precedente però se invece diventa mio ovviamente lo posso poi eliminare e diventa mio però in quel momento lascio cambiare solo titolo e testo e però poi se però è diventato mio al giro dopo io cioè dopo che l'ho creato lo vedo come come mio è proprio lo stesso creatore quindi questa cosa vabbè se non si può cancellare però quel discorso che stavamo facendo prima penso si riferisse al discorso di quando si copia ehm quindi è un meme proprio perché non è proprio è veramente che ho venuto il titolo non è proprio dopo ho piaciuto un meme protetto non mio e poi utilizzassi questo meme appena creato ho fatto modificare gli attributi eh bisogna che chieda che chieda il mio collega cosa aveva in mente in effetti questo è un punto un po' un po' non chiaro perché se no appunto distinguere tra meme proprio e meme e non proprio diventa quando si copia diventa un po' inutile quindi se meme proprio eseguire una copia posso cambiare tutto una copia come si cambia io sarei per dire appunto che nel momento in cui lo salvo è mio e poi una volta siccome è mio poi posso facendo una nuova copia fare quello che voglio però non essendoci la modifica non essendoci la possibilità di fare la modifica vuol dire che nel momento in cui sto copiando un meme che non è mio quindi questo secondo caso l'applicazione visto che io ho cliccato copia su un meme che non è mio mi consente solo di fare una modifica di titolo e testo e va bene se e se non è protetto anche la visibilità e poi però quello è salvato e fine siccome intanto non posso modificarlo quello diventerà mio e io ho potuto fare solo questi cambiamenti poi è vero che se faccio una nuova copia essendo mio posso poi farci quello che voglio quindi non direi che va in contraddizione con questo sento poi il mio collega cosa aveva in mente però e quindi eventualmente vi faccio sapere sulla su slack e aggiorniamo le facche di conseguenza però direi che se diventa A l'informazione che è stato copiato si perde certo esatto però era proprio ciò che volevamo fare nel senso che appunto poi bisognava era per avere un pezzo in meno da fare quindi più che altro se diventa A l'informazione che è stato copiato si perde non si sa più che l'originale era B e si quindi se io sono A e copio un meme creato da B la copia su cui lavoro avrà come creatore A B e quindi allora se sono A e copio un meme creato da B il meme avrà A come creatore l'informazione che è stato stato copiato si perde ma rimane la limitazione imposta nel testo sulla modifica di di quanto diciamo imposta nel testo per per quella copia dalle copie successive successive le copie anzi le eventuali le successive diciamo applicheranno le regole relative ad un ad un proprio meme quindi spero che sia sufficientemente chiaro adesso mi consulto anche con i colleghi ma insomma mi sembra che possa essere una soluzione punto quindi se io sono A copio un meme creato da B il meme è acqua A come creatore l'informazione che è copiato si perde ma rimane alla limitazione imposta nel testo per quella copia cioè questo che si diceva nel senso posso cambiare solo titolo e testo e poi o non lo salvo allora la copia non avviene oppure se lo salvo l'ho salvato non si può più modificare l'unica cosa che si può fare è o cancellarlo perché è mio oppure fare un'ulteriore copia ma allora a questo punto si applica la regola del meme proprio nel senso che essendo mio posso poi fare quello che voglio quindi modifico tutto posso modificare tutto tranne l'immagine sulla nuova copia e se voglio modificare l'immagine ovviamente devo creare un nuovo meme ok quindi c'è ancora una domanda possiamo mettere un limite ai caratteri possibili per una frase penso di sì se non voglio rispondere più gli altri però xdc sì vedrei di sì sì diciamo sì una dimensione dimensione ragionevole non so un qualcosa tipo 100 carattere qualcosa così adesso non so vediamo di specificarlo magari nel testo più caldo per una questione di comodità ecco non diventate matti a formattare i meme o pensare cosa succede se il testo va capo eccetera cioè non è lo scopo dell'esercizio lo scopo come in tutti questi temi d'esame è programmare con react con un server l'api eccetera eccetera sì posizioniamo questo testo quindi scriviamo due righe di css però diciamo non diventiamo matti sul fatto che vabbè è chiaro che se scrivo tanto testo da qualche parte dovrà andare a finire e se esce eccetera dall'immagine vabbè se ne scriverà di meno se diventa un problema ecco se va a capo non so dipende da come avete fatto la cosa insomma senza diventare matti ecco il limite è da intendersi vabbè dare una dimensione nel db e poi questo è ancora già finito vabbè e diciamo un limite per evitare che vada che si creino dei problemi inutili no? come appunto andare a capo eccetera quindi allora giusto per conferma perché mi è venuto fuori allora giusto per conferma dato che prima l'ho accennato quindi le posizioni dei testi sono fisse per la singola immagine di sfondo ma devono cambiare a seconda dell'immagine sì devono diciamo possono però ogni immagine ha la sua configurazione no? quindi questo sì eh che antipatica sta cosa che è far ripartire la numerazione allora è quindi sbagliato dare la possibilità di modificare colore font diversamente si può dare ad esempio la possibilità di scrivere il testo in alto di rosso e il testo in basso di verde diciamo non è richiesto eh richiesto tutto qui non è sbagliato nel senso se vuole farlo lo fa però sono cose in più c'è il rischio di sbagliarsi e non le vengono riconosciute come un punteggio in più no? è come dire voglio poter modificare voglio poterlo spostare col mouse voglio poter fare tutto quello che vuoi voglio poter scegliere colori col color picker qualsiasi cosa si può fare però non dite che il tema d'esame era troppo complicato nel senso che queste cose non sono richieste tutto qui quindi si può si può fare tutto quello che si vuole in più ma non non è richiesto tutto qui ok quindi guardavo no non ce l'ho ecco modifiche ecco professor Conn ha proposto una serie di modifiche già sul testo quindi le immagini devono essere servite da react o express quindi appunto come dicevo prima potete mettere su uno dei due server quindi in realtà di urlo esterni sarebbe bene non usarli quindi adesso poi ne concordiamo però eh ok quindi ha chiarito anche la questione del meme che esattamente come vi ho detto quindi la nuova copia che appartiene al nuovo creatore e quindi diciamo che stiamo abbastanza convergendo in fretta ok quindi vediamo c'è ancora una domanda no non c'è un altro ok quindi non è richiesto boh ok direi che abbiamo in tempo reale ecco visto tutto quindi io magari tirerei solo via questa cosa che ho scritto diciamo quindi questa che ho scritto le immagini devono essere servite da dal server react o da express quindi mi permette di cambiare questa risposta che ho dato prima eh tanto appunto sconsigliavo già di andare ad usare risorse in rete ma così abbiamo tutto self contained non ci sono problemi di nessun tipo perché abbiamo le risorse sparse in rete e lo introdurremo però come modifica nel testo eh questo questo si per il resto mi sembra che sia tutto posto quindi non vedo altri vostri commenti eh modifica ok quindi quindi direi che stiamo andando meglio mi ha ridotto un po' il numero di di risposte di domande anzi adesso poi le numero per bene ok ah no c'è ancora qualcuno che sta digitando se no fondamentalmente abbiamo finito rispondo ancora a questa domanda il titolo del meme deve essere univoco poi tutte le domande che avete ovviamente c'è sempre il canale ma allora io direi direi che non è richiesto vediamo se non è richiesto direi non è richiesto quindi non è richiesto perché perché fondamentalmente è un po' come dire due task che non si possono chiamare nella stessa maniera si possono chiamare però comunque c'è un modo di distinguerli no cioè quello che scrivo nel titolo non è ciò che mi deve identificare il meme ok quindi non essendo richiesto se no scrivevamo ogni meme è composto dalle seguenti proprietà avremmo scritto un titolo univoco ma non l'abbiamo scritto quindi è un po' come nel tema d'esame 1 il questionario c'era se non ricordo se ho sentito il questionario sicuramente il nome di chi compila non è richiesto che sia unico quindi bisogna distinguere le varie compilazioni in un altro modo qui la stessa cosa ok non vedo altri messaggi non mi sembra ci siano altri dubbi quindi vi ringrazio per l'attenzione 5 minuti il tempo di sistemare questo documento ve lo linko dalla pagina sito web del corso poi metto online la registrazione e quindi potete lavorare tranquillamente se avete dei dubbi o delle domande ovviamente chiedete su slack usando il canale apposta così non ci confondiamo va bene grazie a tutti e in bocca al lupo per l'esame buon lavoro se avete dubbi o domande mi raccomando tendenzialmente cercate di iscrivervi sul canale pubblico perché nei messaggi privati a parte che non c'è nulla di così segreto se non è proprio un vostro problema con il github eccetera quindi proprio una cosa vostra personale non ti funziona l'account eccetera però diciamo le domande possono essere spunti possono essere utili per tutti quindi per favore usate il canale pubblico io tendenzialmente non rispondo in privato alle domande perché così tutti vedono la domanda come se fosse stata appunto fatta adesso in classe e così via e può essere utile per tutti le domande che fate voi o anche le domande che fanno altri che magari vi fanno venire in mente qualche idea o dicono questo forse potevo farlo diversamente devo farlo meglio e così via proprio per avere un'uniformità massima per tutti va bene grazie a tutti e ci vedremo all'esame se decidete di consegnarlo arrivederci allora amen Grazie.